Via, via, via! Mi serve il fuoco di copertura! Qui squadra Cepini 2, avvissate truppe nemiche e corassata leggera in arrivo da nord verso di voi. Procuratevi del C4 o cercate qualche arma pesante. Passo! Lanciate dei fumogeni! Dobbiamo coprire l'avanguardia! Lanciate i fumogeni! Ci sta facendo a pezzi! Usa il C4! Piazza del C4 sul corazzato! Trova un RPG o forza del C4! Piazza del C4! Bravo, sei tu il comando. Rapporto sulla situazione. Siamo all'interno del perimetro! Ci avviciniamo ai cancelli vicino ai silos! Chiudo! Siamo all'interno del perimetro! Sì, scuola, scuola, scuola! Sì, scuola, scuola! Attenzione, che malata! 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 Attenzione! Attenzione, che malata! 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 Squadra, avrà messo tempo per attraversare i condotti! ym squadra 1 entriamo squadra 2 verso la sala di sorveglianza la squadra 3 benedotta nella base squadra bravo abbiamo una buona notizia e una cattiva la sala comandi a sud ovest della vostra posizione a meno di 500 metri è lì che dovrete inserire i codici per l'autodistruzione dei missili lanciati gas vai alla sala di sorveglianza con gli americani stop grix e io alla sala comandi ricevuto comando qual è la cattiva notizia e quella cattiva che stiamo ancora cercando di ottenere i codici passo ancora facciamo il possibile chiudo